Orduna, va da Giavorinov, murato la copertura di Plotinsky, Gafur la tiene viva, applausi del pubblico, Dececo una mano, il muro di Viktor Yosifov, No Way! La ricezione di Lanza, poi Dececo all'indietro da Tanasievi, il murone di No Way, Viktor Yosifov va a dire no! Vola Leon, il missile, la ricezione, la fa la vola via, Gafur la tiene viva, Plotinsky manda di là, Fribol per Perugia, Dececo, Ricci, la difesa distinto, Colacci che cosa ha fatto? Lanza il muro di Viktor Yosifov! Yosifov, palla a terra per un ace fondamentale contro il sorpasso Monza! Dececo all'indietro da Tanasievi, c'è il muro, la palla che darà nel campo di Perugia, altra possibilità, Dececo, con Leon Lappai, il muro di Yosifov!